e poi lo tengo 5, 4, 3, 2, 1 e l'altra parte dimmi pure le tue sensazioni se ti risulta gradevole e sgradevole ovviamente dimmi tutto che io sono qui per aiutarti questo video è stato gentilmente sponsorizzato da HelloFresh HelloFresh è un servizio che ti fa arrivare a casa una box diversa ogni settimana con ingredienti freschi per preparare sempre ricette diverse che possono essere etniche o tipiche italiane sul loro sito cambia il menù ogni settimana e potete scegliere tra ricette come carne, pesce o vegetaliere come nel mio caso oggi in particolare ho preparato questo cavolfiore che era molto diverso da ciò che di solito cucino quindi è anche bello per provare nuovi sapori, nuove ricette, nuovi abbinamenti adatto sia per chi vuole provare qualcosa di diverso ma cucinarla a casa con ingredienti freschi sia magari per chi vuole cucinare qualcosa, qualcuno a cui tiene ma non è particolarmente esperto in cucina perché qui ci sono i passaggi, la ricetta è molto semplice, ci sono tutti i passaggi tutte le cose già dosate e dovete solo assemblare è capitato molto spesso che mio marito mi cucinasse questi piatti al posto mio e sono io la tetta in cucina in casa quindi mi è sempre fatto molto piacere che ci riuscisse anche appunto facilmente io spero di avere questo servizio, vi piacerà, vengo i 6 sky, mi sono trovata veramente sempre super bene e le ricette davvero, non so, non le farei così a casa perché mi fanno uscire dalla mia comporzone, dal mio solito stile io adoro mangiare e adoro cucinare ho anche un codice sconto che è l'occhiara 65 che vi da fino a 65 euro di sconto sulle vostre prime 3 box ditemi se avete già provato questo servizio o se vi ispira e lo proverete spero proprio di sì io ringrazio Inverlofresh per aver sponsorizzato questo video e passiamo subito al video prima di cominciare questo video volevo anche solo dirvi che se sentirete dei leggere in umore di sottofondo è per questo che ho messo la musica per, diciamo, attodirli il più possibile stanno lavorando al mio nuovo studio qui di sopra e devo dire che sono abbastanza silenziosi perché è pausa pranzo però comunque qualcosa potrebbe comunque sfuggirmi quindi mi dispiace ma spero che quando tutti i lavori saranno finiti otterrò uno studio il più insonorizzato possibile ehi no 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 non ti preoccupare non fa niente usciamo un'altra volta a me interessa che tu stia bene mi hai scritto che hai mal di testa no sono qui per te sono qui per te aspetta che metto più vicino eccomi qui allora dimmi secondo te per che cosa hai mal di testa? ok ho lavorato al cellulare troppo anche a me capita quando magari devo rispondere a tante mail e sono fuori o molti messaggi eccetera mi capita che ci stai con il tuo lavoro che tu passi tanto, tanto tempo al cellulare e anche a me a volte vengono veramente dei mal di testa molto forti soprattutto qui sugli occhi e quindi ho sviluppato un pochino di tecniche per farmelo passare o comunque calmarlo la prima è sicuramente parlare a bassa voce giustamente poi allora vediamo ti ho portato come prima cosa da casa l'ho appena 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 raccolto un rametto un rametto un ramo di rosmarino lo so ti potrà sembrare stranissima come cosa lo so però te l'ho portato perché concentrarsi su altri sensi l'ho detto tanto quindi sicuramente se vuoi abbassare un pochino abbassiamo un pochino le luci ok abbassiamo leggermente le luci bene ok e e poi volevo farti proprio annusare per un po' se vuoi più chiudere gli occhi questo rametto di rosmarino perché aiuta tanto sia il rosmarino in sé sia a concentrarsi su qualcos'altro però però anche di solito se hai un aromatizzatore si può usare l'essenza di rosmarino quindi ho preso questa tecnica da lì allora ecco qua annusa bene con dei bei respiri profondi profondissimi dopo magari facciamo anche un piccolo esercizio di meditazione ok te li rompo anche un pochino qui così c'è proprio l'essenza ok adesso anche le mie mani sanno un po' di rosmarino quindi sarà molto rilassante in generale anche dopo il massaggio che ti andrò a fare perché avrà appunto questo aroma di sottofondo ok bene allora per prima cosa invece volevo guardi a cambiare un pochino posizione secondo me dovresti appoggiare ancora un pochino di più il collo in questo modo ok va un po' meglio e sotto ti faccio mettere questo cuscino eccolo qui come va va meglio adesso voglio guardare anche un po' di pressione ok qui sulla base del collo perché il mal di testa sia dalla luce del cellulare ma anche dalla postura che abbiamo mentre lo guardiamo quindi andare a dare un po' di pressione aiuta ad alleviare questo malessere ah guarda le provate tutte ho un po' di esperienza riguardo si 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 come va? come va? ti piace anche la musica rilassante che ho messo? è leggera però non so trovo che aiuti in generale a concentrarci su aiuti col mal di testa a concentrarsi su altri sensi quindi udito quindi olfatto quindi anche tanto su un'altra zona si per riposare un pochino in generale la vista perché la vista è fondamentalmente il senso che più sofruttiamo ed è per questo che molte persone hanno bisogno anche solo di occhielli da riposo perché è quello che si stanca anche di più teniamo un pochino questo massaggio al collo si appoggio pure ok adesso vado a prepararti una tisana calda pensavo di quelle rilassanti tipo la camomilla queste cose qui ok e vado a prenderti anche nel mentre del ghiaccio infatti anche il contrasto caldo freddo può aiutare ad esempio non so se conosci il percorso Knaip si chiama Knaip è quello in cui immergi i piedi un po' in acqua calda e un po' in acqua molto fredda e questo contrasto aiuta tanto anche proprio con la circolazione e la tisana andrà a rilassarti invece il freddo andrà invece decontrare un pochino anche i muscoli del viso vado a prenderti vado a partire di sana e a prenderti il ghiaccio ok torno subito cerca di rilassarti che chiudere gli occhi se vuoi eccovi qua tisana e ghiaccio mentre lasciamo raffredderla tisana qui c'è acqua e anche nel brazo senti facendoli anche sullo dito e di ora vadoa metterti l'impacco un pochino ok, così e te lo tampono prima per farti abituare il fretto e poi lo tengo 5, 4, 3, 2, 1 dall'altra parte lo tampono e poi mantengo per 5, 4, 3, 2, 1 e ancora tampono e 5, 4, 3, 2, 1 e ancora tampono 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 e 5, 4, 3, 2, 1 adesso bevi un po' di tisana? ecco qua con calma e adesso facciamo un altro passaggio di freddo e poi di nuovo caldo ok? e poi di nuovo olfatto con dei veri respiri non so, ma lo smarino è buono e poi di nuovo trattamento freddo tampono buono buf, 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 buf 5, 4, 3, 2, 1 molto bene molto bene anche dall'altra parte buf, 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 buf e 5, 4, 3, 2, 1 allora qualche miglioramento adesso ancora tisana e poi procediamo con il massaggio ok? alcune, diciamo, pressioni che farò soprattutto sulla tua fronte e poi dopo se dopo questo massaggio si sarà calmato come spero come sta succedendo potrò anche andare a casa e lasciarti riposare ok? ancora bevi ancora un po' clu 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 cli 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 molto bene ok? adesso mi sono avvicinata ancora 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 di più spero non ti dia fastidio ok? perché voglio andare a esercitare un po' di pressione qui compro un massaggio vado qui e faccio delle pressioni qui 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 ok? ok? quindi contemporaneo 1 2 3 4 5 ok? sempre prima saranno un po' più forti poi sempre andranno a calare come intensità perché dovrebbe calarti anche il dolore quindi 5 4 3 2 1 come va? 5 4 3 2 1 e ancora e ancora 5 4 3 2 1 l'ultima volta 5 4 3 2 1 adesso invece andiamo a vado a distendere questa zona qui ok? in questo modo quindi ecco qua ok benissimo 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 dimmi pure le tue sensazioni se ti risulta gradevole o sgradevole ovviamente dimmi tutto che io sono qui per aiutarti benissimo l'ultimo massaggio che voglio fare è qui sulle tempie ok? quindi vado sempre con queste dita con movimenti circolari vado sempre qui sulle tempie con movimenti circolari molto lenti ok benissimo prima di lasciarti dormire e finire la sua disana facciamo un po' di respirazioni insieme ok? quindi naso bocca ricordati sempre per concentrarci su altro quindi e ancora e ancora ancora due profondissimi big boy e 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 bene che stasera che stasera devi dedicarlo alla tua salute al tuo benessere non possiamo sempre essere al 100% no? dobbiamo essere al 100% ok? non fa niente non fa niente e e e e e shuuuuu cuti esse zas o più cutie lì Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.